In tanti sogno di lasciare la città e trasferirsi al vivere al mare, che possa essere la Sicilia, la Sardegna, le Canarie oppure Bali. La vera domanda è, è davvero fattibile? E se sì, come? In questo video ti spiegherò esattamente come ho fatto a trasferirmi alle canarie grazie alla scrittura online e quali sono i presupposti se vuoi farlo anche tu. Se non ci conosciamo, io sono Monica, copywriter e copywriting coach. Dal 2021 vivo qui a Fuerteventura, da dove aiuto aspiranti imprenditrici a costruire un business a partire proprio dalla scrittura online. Se vuoi sapere anche tu tips e strategie per costruire un tuo business o un tuo lavoro indipendente proprio grazie al copywriting, allora metti un pollice in su a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Ma adesso iniziamo subito e lanciamoci. Ti assicuro che, ti confesso che fare questo passo e trasferirsi alle canarie non è stato assolutamente facile, soprattutto perché ho lasciato Milano, la città dove vivevo, praticamente quasi da un giorno all'altro ho preso un biglietto di sola andata e sono fuggita a Tenerife, da dove ho iniziato tutto il mio giro delle isole senza alcun piano ben preciso e con un piano che ho praticamente deciso passo dopo passo quando ero qui sul posto, ma soprattutto una cosa che in molti non sanno è che ho fatto tutto da sola, che non c'era nessuno qui con me, che non mi sono trasferita con qualcun altro. E anche in questo ti assicuro che ci sono stati dei momenti, no, ci sono stati tantissimi momenti in cui sarei voluta tornare indietro, fare un passo indietro, però non l'ho fatto perché ho trovato sempre appunto la motivazione per proseguire. A questo punto la domanda iniziale a cui voglio rispondere, che voglio lasciare a tutti quelli che vogliono fare questo passo come ho fatto io è quali sono gli ingredienti per riuscirci, che cosa bisogna fare, quali sono i presupposti di partenza. Ti assicuro che ci ho pensato davvero moltissimo a quali possono essere stati gli ingredienti magici che mi hanno permesso appunto di sostenere questa vita, tutto questo stress così a lungo e anche poi ovviamente essere strafelice al risultato e posso dirti che sono principalmente quattro e li ho divisi in due che riguardano principalmente il mindset, il tuo approccio, gli altri due invece sono più legati all'aspetto lavorativo. Il primo è sicuramente avere una motivazione forte, per motivazione forte non intendo che dobbiamo essere motivati, alzarci dal letto e ripetere affermazioni positive, cose strane o robe della crescita personale, ma avere una tua motivazione, avere un perché lo stai facendo, qualcosa che ti spinge veramente ad alzarti ogni giorno e a dire ok questo è il mio obiettivo e lo sto facendo perché la mia vita o quella delle altre persone sia migliore in questi aspetti. Quindi sappi, abbia ben chiaro anche tu che cosa stai cercando oppure vivi tutto il tuo viaggio come una ricerca perché a volte arriviamo in un posto ma non sappiamo esattamente cosa stiamo cercando quindi anche questo ti aiuterà ad affrontare in modo diverso quelle che sono tutte le peripezie che verranno durante il tragitto e anche ad avere meno aspettative perché se sai che sei qui perché stai cercando qualcosa sarai più ricettiva a quelli che sono i segnali che verranno appunto dalle situazioni in cui ti troverai ad affrontare. Secondo presupposto, adattarsi facilmente ai cambiamenti. Questo può essere scontato e ci sono tantissime persone che magari stanno guardando questo video e penserai sì ma io sono capace di adattarmi, quando andiamo in vacanza mi adatto a qualsiasi cosa. In realtà non è esattamente così perché questa vacanza, che è spettacolare e meravigliosa, può durare per mesi, quindi tu mese dopo mese devi sostenere sempre un livello di cambiamento che a volte ti porta anche tantissimo stress, non lo nascondo assolutamente, cambiarsi, adattare, trovare il posto giusto che mi permettesse anche di lavorare in maniera serena, di evolvermi eccetera, non è facile, quindi ci vuole un'ampia adattabilità ai cambiamenti, molto molto ampia, anche essere in grado di rispondere ai cambiamenti esterni che possono essere ad esempio anche trovarsi in una città in cui in quel momento c'è poca disponibilità ricettiva a livello di Airbnb, quindi prezzi maggiori, ti devi spostare rapidamente eccetera, arriva la stagione turistica e tu non lo sai, ci possono essere davvero tantissimi imprevisti che tu devi essere assolutamente pronta a fronteggiare. Terzo presupposto è avere una minima base di risparmio ma soprattutto saperli gestire. Non nascondo che anche io sono arrivata qui con poco, però non ti nascondo nemmeno che avere una base di qualche migliaia di euro, ovviamente non stiamo parlando di arrivare qui con un conto zero e proprio fare totali follie, però ti assicuro che è importante perché ti dà serenità, ti dà sicurezza, ma soprattutto saper gestire quella quantità di denaro che tu hai e soprattutto anche poi la quantità di denaro in ingresso perché trovarsi qui ti può far sentire di essere sempre in vacanza e ti può portare a non gestire bene le tue finanze e trovarti dopo poco senza soldi o appunto che sei costretto a ritornare a casa per qualsiasi altro problema. Il quarto punto è avere un lavoro che ti permetta di spostarsi. Questo ovviamente lo approfondirò nella seconda parte del video perché è fondamentale ed è una domanda che ho ricevuto davvero tantissimo. Prima di proseguire voglio che tu mi lasci un commento sotto questo video e mi dica quale di questi quattro elementi senti di più mancare all'interno della tua persona, quindi la motivazione, il perché oppure quella che possa essere l'adattabilità ai cambiamenti, saper gestire le tue finanze, avere un minimo di base economica oppure il lavoro. Sono davvero curiosa di saperlo ma soprattutto sono davvero pronta a supportarti per quelle che sono le tue mancanze in questo momento. Una parte che blocca tantissimo, molte persone che ovviamente vogliono fare la vita anoma digitale o trasferirsi qui alle Canarie è proprio la parte lavorativa. E una cosa che consiglio ovviamente a tutti è sempre quello di avere già delle piccole entrate con cui partite dall'Italia, quindi venire qui con già un piccolo lavoro che possiate fare da remoto. Questo perché uno, come ho già detto, ti dà la sicurezza di avere almeno una piccola entrata e ti permetterà di viaggiare e di vivere queste esperienze in maniera più serena, che non è effettivamente da poco. Dall'altro perché le isole sono prettamente isole turistiche, le grandi città sono soltanto due, quindi è molto più difficile trovare un lavoro che non riguardi il turismo. Quindi se vuoi lavorare in ufficio, qualsiasi cosa, tutti immagini di fare sul posto, tendenzialmente la maggior parte delle cose che puoi fare è legato al turismo, quindi ristorazione, alberghiero, eccetera. Se non è qualcosa che vuoi fare, ovviamente ti consiglio di avere un lavoro già sul posto. Nel mio caso, quello che ha fatto davvero la differenza è avere appunto già un lavoro che mi permettesse di lavorare da remoto, ma soprattutto avere un lavoro nella scrittura online. Infatti ciò che io faccio è appunto copywriting, che significa scrivere testi per brand, aziende, progetti online, scrivere testi per la vendita. Quindi ciò di cui ho bisogno è un computer, ovviamente avere dei contatti, avere dei clienti, ma non ho bisogno di altro. E ti assicuro che lavorare nella scrittura online è stato proprio quello che mi ha fatto fare la svolta dal passare da giro, vado un po' in giro anche per l'Italia, cerco opportunità, cambio posto e poi effettivamente essere completamente slegata dal luogo fisico e da qualsiasi incombenza. Ti assicuro che non è stata la mia prima esperienza in digitale, ovviamente iniziare a lavorare come freelance nel copywriting, poi avviare un progetto di corsi, di formazione, eccetera. Però ho avuto altre esperienze precedentemente che mi hanno aiutato a capire effettivamente quali erano i pro e i contro e a che cosa volevo andare incontro. Ho lavorato innanzitutto in agenzia di comunicazione a Milano, in cui ovviamente avevamo una serie di vincoli. Ho lavorato come social media manager freelance, ma anche lì avevo dei vincoli dettati dai clienti nella produzione dei contenuti, eccetera. Lavorare con la scrittura online è stato veramente la svolta perché mi ha permesso di tagliare quelli che erano tutti i ponti con il luogo fisico, quindi sostanzialmente non gestendo più i social, non avevo più la necessità di andare in luogo, fare contenuti, ascoltare i clienti, eccetera. E anche tagliare fuori tutti quelli che sono i meeting fisici con i clienti è stato veramente, veramente importante per avere un lavoro che fosse full remote e quindi avere la possibilità di vivere alle Canarie in totale autonomia proprio grazie alla scrittura online. Quindi se ti piace scrivere, ovviamente ti piace fare questo stile di vita vivendo al mare, in un ambiente totalmente diverso dalla città, il copywriting è un lavoro veramente pazzesco e si può iniziare anche in maniera abbastanza facile, ovviamente dico sempre abbastanza perché non è vero che si inizia con poco e bisogna sempre esercitarsi, imparare le tecniche e studiare, questo è assolutamente in dubbio però per chi ha una propensione per la scrittura, per chi è appassionato, per chi già scrive qualcosa, può essere davvero un trampolino di lancio perché ti permette di costruirci un lavoro di cui sei realmente soddisfatta, quindi ti sveglia al mattino e sei felice di fare quel lavoro e questa è una cosa veramente impagabile perché ti permette di distaccarti da un luogo fisico, quindi essere dove vuoi all'interno del mondo, se anche vuoi trasferirti a Bali potrai farlo e gestire in autonomia il tuo tempo, quindi ti svegli al mattino e decidi tu come gestire la tua giornata. Ti assicuro che questo ha portato davvero tantissimi benefici anche a me come persona, mi sono trasferita qui, nuove energie positive, nuovo modo di vivere la vita e si è riversato anche nell'ambito lavorativo, quindi tutto veramente torna. Se vuoi iniziare ad avviare la tua carriera da un copywriter freelance ma non sai da dove partire, sappi che qui in descrizione puoi scaricare la mia guida gratuita in sei passi in cui ti accompagnerò proprio nell'iniziare questo viaggio insieme. Se questo video ti è piaciuto io ti invito a lasciarmi un pollice in su, iscriverti al canale e attivare la campanellina delle notifiche, qui al lato troverai un altro video che potrà interessarti, noi ci vediamo nel prossimo contenuto, hasta luego!